Adesso sgommeriamo e benediamo. Votete vincolo, votete vincolo, votete vincolo, votete vincolo, votete vincolo. Alla, 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 qui? Sì, è vero. Ah, vittà, vittà! Fuori! Ah, vittà, vittà! Vittà, vittà! Vai, grande Francesco! Vittà, vittà, vittà! Guarda, guarda! Vittà, riprendi qua. Ragazzi, ve lo facciamo vedere più grande. Guardate, ragazzi! Guardate il culo, ragazzi, guardate! Ecco! Bene, ragazzi, un altro video completato e loro vi salutano! Ciao! Ci vediamo al prossimo video! Tra poco! Ciao!